Musica Coniugare due realtà importanti della nostra regione con lo scopo fondamentale di regalare Momenti di benessere a bambini e ragazzi afferti da patologie croniche e alle loro famiglie Da questo nasce la collaborazione tra Dynamo Camp, il primo camp di terapia ricreativa in Italia e Riva degli Etruschi, struttura ricettiva della costa toscana Allora in generale Dynamo Camp si occupa di offrire vacanze gratuite a bambini e famiglie Di bambini con patologie gravi e croniche e ai loro fratelli Ultimamente abbiamo aperto anche alla disabilità adulta Siccome tendenzialmente rispondiamo a un bisogno Il bisogno non è solo relativo ai bimbi dai 6 ai 17 anni E quindi negli ultimi due anni abbiamo aperto anche ai disabili adulti Dei ospiti insomma un pochino diversi Dynamo Camp è una realtà importantissima Avere in casa queste famiglie è una bellissima opportunità per creare integrazione, per creare connessione Adesso una cosa bellissima abbiamo in casa altri ospiti E si vede un rispetto incredibile tra le due realtà Che fa capire come all'interno di una struttura ricettiva come la nostra Possono assolutamente convivere situazioni diverse Situazioni con peculiarità diverse E con caratteristiche, con dinamiche e con bisogni diversi Proprio a Riva degli Etruschi Trova spazio in alcuni periodi dell'anno Il camp è di Dynamo che porta all'interno della struttura Gratuitamente famiglie e bambini Per periodi di vacanze e divertimento Sulla base della terapia ricreativa Il metodo è basato sulla terapia ricreativa Che è un metodo che ha del fondamento I benefici delle attività che proponiamo alle famiglie e ai bambini Sono benefici che perdurano nel tempo In termini di autonomia In termini di entusiasmo nell'affrontare tutte le difficoltà Che queste famiglie devono affrontare giornalmente Dietro le attività di Dynamo c'è il lavoro di staff qualificati e volontari Lo faccio perché per il sorriso Per il sorriso dei ragazzi e dei genitori Ti sorridono, giocano senza dover fare nessuno sforzo da parte tua Tu devi solo esserci e basta L'obiettivo è quello di regalare alle famiglie coinvolte Momenti di quotidiana leggerezza Di contivisione e di sorrisi In un luogo diverso dall'ordinario Immerso nella natura e a due passi dal mare Si respira l'accoglienza L'essere per tutti E quindi sempre del voltarsi e trovare qualcuno che ti fa un sorriso E che ti chiama per nome E che comunque ecco il divertimento è un aspetto importante Noi siamo abituati a combattere per ottenere un qualche cosa E spesso è di difficile raggiungimento Avere e venire in contatto con una struttura Che si dedica al tuo problema sostanzialmente E ti aiuta a viverlo con serenità Senza che forse tu neanche devi dare di tanto il tuo contributo È effettivamente un qualcosa in contotendenza Con quello che viviamo tutti i giorni E questo è molto incoraggiante Dà un po' di carica anche Nel senso quando torneremo a casa Un pochino di gas ce l'ha dato Un pochino di gas ce l'ha dato